Momenti di tensione ieri sera al palazzo di Città Gera. Alcuni dei 28 lavoratori ex Tecra non assunti nonostante le clausole del contratto sottoscritto tra azienda ed ente comunale hanno minacciato di buttarsi giù dal cornicione. Sono stati attimi di concitazione. L'intervento degli agenti di polizia e dei vigili del fuoco assieme al personale della protezione civile ha consentito di far calmare gli animi. I lavoratori hanno denunciato nuove assunzioni, circa 15 da parte di Tecra, mentre per loro non ci sarebbe spazio. Gli operai avevano protestato prima in aula consigliare durante i lavori del Consiglio. Urla e fischi sono volati alla proposta iniziale del sindaco messinese di accogliere solo una rappresentanza nella sua stanza per affrontare la situazione. O tutti o nessuno, il messaggio dei lavoratori è stato chiaro, così come altrettanto chiare sono state le manifestazioni di protesta. Il sindaco ha confermato che a gennaio, con la scadenza del contratto firmato da Tecra, si dovrebbe provvedere ad una nuova gara d'appalto per i successivi sei mesi, in attesa di poter affidare l'appalto in maniera più stabile con gara ordinaria. Il malcontento, come dicevamo, si è riversato ancora una volta in Consiglio Comunale. Intanto arriva una sospensione degli sfratti in attesa di una ricognizione dello Stato di fatto degli alloggi popolari dello IACP. E' quanto ha ottenuto il comune di Gela alla fine di un incontro con il direttore dell'Istituto Autonomo Case Popolari dell'ex provincia di Caltanissetta, il prefetto e vari esponenti delle forze dell'ordine. L'amministrazione comunale ha assunto l'impegno di verificare la situazione degli alloggi occupati con lo stato di bisogno dei residenti e la presenza di minori. Lo scopo, ha spiegato il primo cittadino presente alla riunione, assieme all'assessore Francesco Salinitro e dal dirigente comunale Orazio Marino, e di giungere ad una soluzione definitiva di una questione che si trascina da decenni. Il sindaco ha comunicato quanto ottenuto ad una delegazione di occupanti che attendeva immediata risposta.